E ciao a tutti ragazzi, io ovvia, io sono Eletro16, io sono Eletro16 e oggi siamo nella Minecraft SCP, oh mio dio, in compagnia del Tickle Monster. Che sta? Basta, 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 basta. E niente, è partito, basta, ok, oh mio dio, ok, andiamo. Comunque oggi siamo nel mondo degli SCPJS e oggi vedremo un nuovo SCPJS, poi intanto... Signor682, puoi stare un po' più tranquillo nella tua... Ok, me ne vado. Eccolo che parla. Vabbè, allora, io direi di andare, perché sennò qua moriamo, e ragazzi direi di andare a vedere il nuovo SCP di oggi, che è da quelle parti. Intanto è partito il vecchio, oh scusate, fatemi abbassare, ma quanto alto non ce l'ho? Allora, vabbè, comunque, siamo scemi, e dov'è il vecchio? Il vecchio è lì? Ok, non ci nota. Andiamo di lato. E allora ragazzi, oggi andremo a vedere un nuovo SCP, non so nemmeno io che SCP, però so che andremo a vedere un SCP. Il vecchio l'abbiamo seminato, ok, seminiamolo di nuovo. Corriamo, corriamo, e ragazzi, allora... Non so quale vedremo, perché ce ne sono molti qui da queste parti. Intanto il vecchio l'abbiamo seminato, possiamo rialzare l'audio. E allora, ce ne sono molti, ce ne sono almeno quattro. Penso che vedremo questo qua, con la roccia, che mi interessa abbastanza. Direi di prendere qua anche un pezzo di esperienza che ci stava intanto, però da questa zona lagga, perché forse mi sa che ci sono molti SCP. Allora, l'ingresso, ci sono due. C'è questo ingresso, eppure questo ingresso. Io direi di entrare da questa parte, perché mi sembra più... Cioè, l'altro blocco. Ok, grazie. Entriamo da questa parte. Facciamo così. Ah, ok, no, sono scemo in testa. Qua dobbiamo spaccare. E vedo già qualcosa. Ehm... Rimettiamo i blocchi. Ok, li abbiamo rimessi. E... Sì, raga, forse... Mi sa... Raga, lo conosco questo SCP. Mi sa... Che succede? Scusa? Ehm... Allora, lo conosco questo... Aia! Ma mi colpiscono da fuori? What? Raga, io sto fuori... Mi sembra... Sono già aggressivo, non so perché. Vabbè, comunque, questo SCP lo conosco. È anche molto famoso. Aia, però mi colpisco dalla porta. E là c'è anche il cartello, ed è safe. È il 553. Sì, infatti, non mi ero sbagliato. Allora, vi spiego. Perché questo qua è molto famoso. Però noi l'abbiamo visto in ritardo. È la prima volta che lo incontriamo. Sono le Crystal Butterfly. Praticamente sono queste farfalle... Fatte di cristallo. Che vivono nelle caverne. Infatti, quelli sono i loro nidi. E sono molto aggressive. Anche se su Minecraft e Java queste qua non erano aggressive. Anzi, erano abbastanza innocuele. Non capisco anche... Cioè, queste mi possono colpire. Vedete? Mi colpiscono. E mi danno Wither. Quindi già sappiamo che sono aggressive. E non so nemmeno io il perché. Tecnicamente dovrebbero essere semi innocue. Semi innocue. Con semi innocue. C'è una doppia porta. Allora, facciamo tanto di questo. Chi entra lo ammazzo. Muori. Chiudiamo la porta. Ne è entrata un'altra. Dov'è? Eccoti qua. È aggressiva. Sì, allora, mi ha droppato l'essenza. 9 di essen... Ehi, oh, signora... Signora... Ok, grazie mille. Mi ha droppato anche 9 di quarzo. Perché lo capisco. Queste qua sono fatte di cristallo. 17. Mi danno un sacco di essenze. Anche di cristalli. Allora. Secondo me, nella cella c'è molta roba interessante. Perché c'erano i niti. E mi sa che quelli, se li rompo, ci sono altre farfalle. Dovremmo uccidere tutte le farfalle, ma sono abbastanza. E vedete quante sono. Secondo me non c'è... Cioè, con la spada del Geek Guardian ce la facciamo. Queste... Diciamo che non fanno neanche chissà quanto danno. Tanto il giubbottino protegge. Quindi direi di andare di cattiveria e fare così. Facciamo anche una strage. Ah, allora. Mi droppano anche alcune labbra. Io direi. Queste qui. Entriamo nella cella. Facciamone entrare. Venite tutte dentro. Non dovete scappare. Raga, dobbiamo farci anche uccidere. Da queste. Se dobbiamo sperimentare l'SCP. Comunque sì. Sono molto aggressive. Aia. Le stanno facendo male cane. Le altre. Eh beh. Comunque secondo me senza il giubbottino non ce la facevamo. Non mi stanno più considerando. Però io là ne vedo di infamoni. Ah. È morta. Così. È morta. What? Io esco. Vediamo un po'. Fate qualcosa. Mi riattacca... Sono diventate innocue. Alcune muoiono. Così a caso. Entriamo. Scusa. Signore. Intanto abbiamo uno stack dell'essenze. Eh. Stiamo avendo molte essenze. Mi sa che vogliono uscire. Io ti attaccio. Se io gli do un pugno. Che succede? Niente. Mi sembrano. Mi sembrano ritornate innocue. Mi sembra. Ragazzi. Sono tornate. Mi sa che quando sono di meno. Cioè diventano meno stili. Però io dovevo testarlo su SCP. Eh allora. C'ho così. Uccidiamo qui. Oh mi ha droppato. Che ha droppato? Ha droppato. Il nido. SCP553. Hive. Anche questa. Ragazzi. Mi droppano anche i nidi. Oh. Direi. Qua intanto chiudiamo. Ok. Vediamo un po' cosa fanno i nidi. Li piazziamo. E spacchiamone uno. Ok. Me lo ridroppano. Mi sa raga. Che alcune. Cioè se io vado dentro. E li spacco i nidi. Queste diventano aggressive. Allora intanto. Qua c'è una cassa. What? Con. Pepite di ferro. Alcune essenze. Nulla di particolare. Direi di neanche prenderle. Non ce n'è motivo. Allora. Io mi metto qua. Mi piazzo il nido. E ve lo rompo. Poi. Che cazzo fate? Niente. Ah no. Sì. Scherzo. Sono ritornate aggressive. E io raga. Sto SCP non l'ho capito. Molto. Comunque secondo me. Allora intanto. Dobbiamo farci uccidere. Da questo SCP. Spacchiamo questo blocco. Che porta anche l'esterno. Richiudiamo. Raga. Se spacco i nidi. Queste diventano aggressive. Però erano anche già prima. Ma mi sa che prima. Cioè. Loro se sono in gruppo. Ti attaccano. Mi sa. Dai. Signore. Crystal Butterfly. Dai. Forza che ce la fate. Sono in due. Perché. Forse. Tutti gli altri. Li abbiamo. Stermi. Qua c'è. Qua c'è. Qua c'è. Qua c'è. Ah no. Mi sa che ero. Ogni tanto capita. Allora. Usiamo questi. Di nidi. Mi sa che ogni tanto. Che queste. Che quelle due. Mi hanno droppato. Perché. Forse. Alcune. Nidificano. Raga. Allora. Io. Qua. Mi metto un po'. Cioè. Aspetto che mi uccidano. Quindi ci vediamo. Fra poco. Ok. Raga. Dopo ore. Mi hanno ucciso. E. Si chiamano. SCP. 553. Si. SCP. 553. Che sono. Le Crystal Butterfly. Qua. Metterei. Il. Coso. Perché qua c'è anche. I label. Allora. Uno dei label. Me lo metterei. Qui. Ecco. Così. Per ricordo. Dell'SCP. Poi. Il resto. Dove lo metto? Qua. Perché? Perché sì. Allora. Quante essenze. Cristalli. E. Niente. Ragazzi. Questo SCP. Mi è piaciuto. Parecchio. Perché abbiamo visto. Molta roba. Non è stata una cacata. Cioè. Mi immaginavo. Che erano. Più amichevoli. Invece. Sono partite. Già in quarta. Super aggressive. Non ho capito. Come mai. Alcune. Hanno droppato. I loro nidi. Ovvero questi. Vabbè. E niente. Quindi. Io comunque ragazzi. Direi. Che per questo video è tutto. Lasciate. Un bel like. Lo dice pure. Tickle Monster. Iscrivetevi. Ma. Ormai. Lo devo dire. Se volete. Però. Lo dovete fare. Perché. Se no. Mi dimostrate. Che siete. Dei coglioni. Che non sapete. Nemmeno. Se state. Facendo. Questa vita. E niente. Ragazzi. Da me. Eletro16. E Tickle Monster. Epico. Tickle Monster. Fatti. Tickle Monster. E tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.